Grazie. La partita di stasera? La partita di stasera? No, io penso a quella di domani, non quella di stasera. Di domani, quella di domani. 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 Beh, è una doppia partita contro i spagnoli, cioè, no? Una doppia sfida Italia-Spagna tra stasera e domani. A noi interessa quella di domani. Ci vuole un miracolo, ma a Firenze, dove c'è il Davide che ha vinto contro Golia, siamo anche abituati a affrontarle queste sfide. E' d'accordo con De Laurentiis che dice che il Siglia ha già vinto la Coppa? Che gli è già stata data la Coppa. Ah, in tono polemico? Non lo so, io per carattere sono sempre abituato a vedere nelle persone le cose positive, insomma. Però non so dire se ci siano dietro strani intrallazzi. Faccio il tifoso. Grazie. Scusi, signor, quindi...